Un saluto a tutti e ben ritrovati a TheWorld225 nuovamente su Total War Room 2 con la nostra campagna Roma Invicta con la Divide di Impera Mod. Riprendiamo il nostro pandemonio greco perché alla fine la Grecia era il vero teatro delle nostre discordi e delle nostre malefatte perché stavamo assediando con la vecchia armata del Papus, la Leggio Prima Apollinari, che verrà anche come rinominata Leggio Prima Ellenica se avrà conquistata Sparta, cosa molto probabile. Ci stavamo conquistando gli Sparta. Qua noi speriamo sempre che loro non riescano in alcun modo a prendere pella, anche se secondo me prima o poi loro porteranno questo esercito che hanno qua lo porteranno qua giù, o come questa sensazione, quindi riusciranno a prendere pella, quindi probabilmente dovremmo fare una guerra lampo contro di loro prima o poi. Questa armata qua ha bisogno di riprendersi un pochettino e di partire poi per un lungo viaggio per la conquista di Odessos e di Anteia. In questo episodio io vorrei attaccare sicuramente Sparta, però prima dobbiamo andare a spendere i nostri soldi, abbiamo andare a spendere i nostri soldini, soldoni. Allora Larissa possiamo migliorare, può fare il Medicus che mi piace sempre. Mi piace sempre comunque, questo ci dà il più di cibo, lo facciamo. Questo ce lo porta via il cibo e non va bene, non va bene. Qua abbiamo già migliorato le cose, mi sta bene. Posso reclutare qualcuno qua? Vediamo se c'è qualche unità reclutabile che non siano questi cani. Sono solo cagnolini qua che non mi piace cagnolini, il caglio nel senso che fanno cagare. Allora, qua forse stava già reclutando, ok. Questa legione qua aveva fatto il suo dovere. Adesso era ferma immobile perché non si poteva muovere, va bene. Poi tornerà presto indietro verso Massale. Mi piacerebbe reclutargli una catapulta però. A fine tu, eh, però per perditi... Però voglio reclutarla con la catapulta, così due catapulti e il suo esercito diventa un buon esercito da assedio. Questi stanno qua e non muoiono, infatti loro... Attento, avevo schierato, sì, avevo schierato tutti e due a Roma per migliorare la situazione di conversione. Ok, andrei a combattere la battaglia di Sparta, ma non di Atene. Vediamo come è la guarnigione, traccia, 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 tutta roba traccia, va bene, andiamo a combattere. Ci dà già favoriti, abbiamo un po' di uomini messi male, ma non è un problema, andiamo a combatterla. Ok, benvenuti nei dintorni di Sparta, non so dove sia la città di Sparta, forse probabilmente è laggiù. È laggiù, boh, non la vediamo Sparta, Sparta è nascosa. Comunque il Regno Drisi si vanno a mettere laggiù, va bene, così. Noi selezioniamo tutti. Eh, no, selezioniamo tutti così. E li muoviamo verso laggiù, senza correre. Loro scelgono posizioni sopraelevate, mi sta bene, per una volta l'intelligenza artificiale fa una mossa saggia. Io velocizzo. Allora, attenzione perché passano le patch, passano le mod, ma quando tu muovi l'esercito, l'intelligenza artificiale continua a non capire una mazza. Questi adesso non so quali sono le loro intenzioni, ma facciamogli avanzare. L'intelligenza artificiale è quando tu sposti i soldati da un fronte all'altro, non capiscono più niente. Questo è dal release, purtroppo questa è l'intelligenza artificiale che è quello che è. Ci sono ammonticchieri tutti qua, corrono avanti e indietro come dei pazzi, come se... Adesso vediamo se loro decidono di attaccarmi... No. Continuano a scappare indietro, a destra manca. Attenzione, però adesso questi entrano... Entrano a tiro. Pila in arrivo. Seconda ondata di Pila. Più pilu per tutti, più pilu per tutti! Sono già stati praticamente sterminati. Engage that army! Eh no. Ok, non facciamoci prendere. Ok, indieteggiamo. Principes invece andiamo avanti. Ci facciamo avanzare. Questi invece sono stati colti alla sprovvista, mi dispiace per loro. Ok. Ci facciamo fare il giro di qua. Principi! Mars, aiuta noi! È Gage! In generale che dobbiamo fargli fare un po' di esperienza, perché purtroppo non è più il Papus, non è più il buon vecchio Papus. Non è più il buon vecchio Papus. Ok, voi dovete attaccare, però. Mentre la mia cavalleria... Continua a fare strage. Ok, continuo. Ti si lancia nella mischia. Ok, la nostra cavalleria qua ha ingaggiato questi. Vai, vai, generale, vai. Fuggi, facciamo avanzare questi. Te, cosa sei? Un momento di ribellione per lui. Ok, anzi, carica le spalle quelli, perché mi sei più utile così. Ok, sic, domine. Cotton down! Ok, facciamogli una bella imboscata. Non state facendo nulla, venite qua. Ok. Per quale motivo tu non stai correndo, però? Bella domanda. Cavalleria del Papus, la vecchia Cavalleria del Papus è sempre micidiale. Carica in avanti, c'è solo più il generale da... Da una lezione, ho chiesto a non farvi... Mars, aid us! Ok, ma come al solito bisogna dirlo, sarebbe strano il contrario. Ok, qua, mangiateveli tutti. Principess, Cavalleria a disingaggiare. Donato, la nostra Cavalleria mette sempre vittime come se non ci fossero domani. Ok. Seguite questa maledettissima gente, voi caricateli alle spalle. Blinkano tutti, blink 142. Ah, 182 mi sa, non 142. Continua. Ok, via gli Odrisi dall'Illiria. No dall'Illiria, dall'Ellenica, dalla Grecia. Luttiamo Sparta, sì, perché ci fa piacere luttare. Bene, il generale aumenta di grado, grande. Il nuovo Papu Gomez, che non è più Papu. Vediamo anche cosa c'è qua, più due. Più 4 di Cia, più 4 morale per tutta l'unità. Vai, mi piace. Come mi piace sempre la cosa del morale, gli do quello che è meno morale per il nemico. Mi piace moltissimo. Escivi fuori. Tu qua cosa sei livello 2? Ah no, Sparta è una città dell'antichità. Ok, modifichiamo. Qua potremmo fare a sto punto... Cosa sblocchiamo? Italiano, bla bla bla, legionari, cani sbellici. Tessalonica. Qua mi fai i campi di grano, anzi fai le mucche. Fai le mucche, però non di livello 3, che mi cresco allora. Quindi distruggiamo tutto, va? Distruggiamo per il momento tutto. Va bene. Con i soldi guadagnati dovremmo migliorare qualcosa in giro per le nostre città. Rana Isos, ad esempio qua, potremmo fare anche lui il qual medicus. Qua potremmo scegliere fare l'inprocessing, una miniera. Quindi potremmo processare il... O fare il gioielliere. Per questo non conviene, un ragazzo ci dà più risorse. Io ho visto che i soldi ne abbiamo abbastanza. Farei... Farei il lead processing. Proviamo a fare il lead processing. Poi qua invece abbiamo già tutto abbastanza a posto. Qua dovrei fare la caserma, quella... Ci conviene fare quella normale qua. Però non ce n'è così tanto bisogno. Potrei creare qua il pesce. Pesce, pesce fresco. Dal commercio marittimo. Mi piace, abbiamo finito i soldi. E abbiamo finito anche il turno, direi. Tu qua stai migliorando la situazione in Grecia. Mi piace. La marina al momento è... In stand by. Sarà la cosa che metteremo a posto nei prossimi episodi. Adesso qua si ribelleranno sicuramente... Come se non ci fosse un domani. Ma non mi interessa. Mettete in modalità camper. Magari tiri i focili più in fretta. Esatto. E nulla, passare il turno. Ok. Turno difficilotto. Difficilotto perché come avete visto. Blackmail. Uno in una situazione di SBB blackmailed. Perdiamo i soldi. I nervi stanno cagando fuori eserciti come se non ci fosse un domani. Tanto il governatore aumenta anche di grado. Questo esercito non ce la farà mai ad arrivare secondo me in tempo. Per aiutare questo. Tu qua non puoi nemmeno reclutare. E' vero che abbiamo una guannigione abbastanza... Oddio abbastanza. Si fa presto a dire abbastanza. Questi galli infami. Per voi solo... Che babbari, bastardi. Ballista, va bene. Abbiamo fatto un altro... Un'altro coso. Qua sta migliorando l'ordine pubblico. Qua sta migliorando l'ordine pubblico. Questi hanno abbandonato... Qua ho paura perché adesso questi sono usciti dalla... Dalla flotta. Non vorrei mai che... Questi non so se farli fuori già adesso. Aspettare, aspettiamo va. Di meno 5 di cibo. Qua abbiamo distrutto tutto a sparto. Dobbiamo costruire qualcosa. Ad esempio... Il tizio del marmo fa sempre... E' sempre utile... Come è anche utile un qualcosa per il cibo. A me mi piace il coso per il cibo. Non mi piace proprio per niente. Posso prendere dei mercenari? C'è dei mercenari? No, non possiamo ancora reclutare dei mercenari. Molto bene. Io qua la vedo molto molto brutta. Se devo essere sincero. Tu puoi reclutarmi qualcosa? No, perché sei pieno. Però questa cavalleria volendo potremmo anche toglierla. Vabbè, però adesso lasciamola. Questi bastardi stanno... Tirando fuori eserciti come se non ci fosse un domani. Spero ovviamente che questi non... Non riescano a prenderla. Ci spero davvero tanto. Vedete qua si sono ribellati. Qua visto che abbiamo due eserciti li faccio fuori subito. Novantotto, novantotto, uccidili. I greci che si ribellano, muoiono. Ok, mettetevi in... Mettetevi in camper. Anzi, migliorate le relazioni. Le relazioni migliorate le... Migliorate le... L'ordine pubblico. Patrol, meno 6. Va bene, facciamo qua una bensola. E per far nulla passare il turno. Abbiamo prima la... Abbiamo prima l'ordine del tizio qua. Ok, tu, anche te, vorrei che migliorassi la conversione culturale. Quattore pubblico, amministratore. Ho sbagliato dopo le mette. Vabbè, mettiamoli più 5 tax rate a Roma che fa sempre comodo. E passerei adesso. Ok, ci veniamo avvisati che qualcuno è sbarcato. De lui, che non so dove voglia andare sinceramente. Ma che se ne vado a cagare. Mentre è stato tolto la sedia a pella. Dimmi che tu ci arrivi. Non ci arrivi per il rotto... Proprio per un pelo. Ma hanno anche la guarnigione un po' danneggiata. A sto punto tu puoi anche ribellarti per l'eternità. A sto punto, mi va bene. Mi sta bene così. Tu adesso stai aumentando l'ordine pubblico. Però gradirei che tu ti spostassi comunque ad Atene. Perché Atene è attaccabile via mare qua. Questa no. Quindi gradirei comunque tu si controlli ma... Controlli lì. Loro non hanno lanciato l'attacco. E mi va bene. Però ho come la sensazione che non ci arriviamo, vero? Non arriviamo qua. E' anche vero che sarebbe una battaglia abbastanza che noi magari perdiamo. Ma il turno dopo abbiamo di nuovo l'esercito qua pronto a attaccarli. Ok, voi siete tranquilli. Non si troppo il popolo. Va bene. Faction Destroyed Massalia. È stata completamente distrutta. Ok. Cerchiamo di mantenere alte le relazioni però con... Con loro stiamo commerciando. Attenzione. Quello, no. Ti do 700. No, non vuoi un pattino ad agressione. Voi siete contenti. Siete in guerra con i geti. Volete un pattino? Ce l'abbiamo già un pattino ad agressione. Ok. Con voi abbiamo, insomma, addirittura alleati. Con voi... Abbiamo un pattino ad agressione. Magari un'alleanza difensiva. Ma prima, parliamo. Non la volete. Regno Driso che è stato messo alle strette. Va bene. Mi sta bene. In questo esercito abbiamo anche una ballista sola, ma è meglio che niente. Ma sbaglio qua è più sgranato le schede. Sono io che me li invento? È effettivamente più sgranato. Vabbè. Fa lo stesso. Però se tu fai un passettino indietro... Fai il sabotage... Poison Wells. Vai, proviamo a fargli fare qualcosa a questa schiava. Brava, addirittura. Sei riuscita a farcela, brava. Bravissima, mi piaci. Ma io vorrei fare le fontane. C'è anche quel più 4 di latin coso che mi piace. Che delle fontane. Qua l'ordine pubblico è ok. Qua l'ordine pubblico è stra-ok. Qua l'ordine pubblico è stra-ok. Qua l'ordine pubblico è negativo perché purtroppo lui ci sta rompendo i coglioni. Vabbè, rompiceli. Non so cosa dirti. Tu se non attacchi questo è il turno... Prossimo episodio. A questo punto passerei ancora a questo turno. Il prossimo turno noi ti distruggiamo. Boh, passerei il turno. Ok, passaggio del turno positivo perché loro non hanno attaccato alla fine. Quindi molto, molto positivo. Low Regional Supplies dove? Lì va bene. Macedonia, ribellione eminente. Ludiplebei, bene. Dei bei giochi che ci allietano la serata. Tu resisti, non hai nemmeno problemi. E adesso tu... Il primo obiettivo è Population Sopluso in Lazio. Mi fa bene. Trovo il Population. Construction Report. Ok, qua com'è la situa? La situa è sobria. La situa è molto sobria. La situa è sobria ma tu stai reclutando. Allora, a sto punto tu stai dentro. Qua ti dovresti poter rifocillare. No, perché qua no? Non capisco perché tu non riesci a rifocillarti qua ma fa lo stesso. A sto punto io vorrei... Qua sto a tre baliste e questo mi servirebbe come il pane. Porterei... Attacchiare il prossimo episodio, questo esercito qua. Ovvero lo distruggerei. Porterei questa armata ad attaccare insieme a questa. In modo tale da poter distruggere le mura. Avete visto come è facile con tante balliste prendere le mura. Qua possiamo fare le fontane a sto punto. Yes, grazie. Qua abbiamo un surplus del Lazio e qua farei poi le fontane che ci danno un malus poi di conversione. Però, prima cosa, la nostra legge o seconda ad Utrex davvero vuole ingaggiarci. Minchia, coraggioso. Con la città e per di più anche l'armata di supporto. 80% addirittura con le forze così. Ma io sapete cosa vi dico nel prossimo episodio? Noi la combattiamo e le distruggiamo proprio come se non ci fossero domani. Io vi ringrazio e un saluto alla prossima. Ciao, ciao.